Un saluto a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro notiziario di oggi che apriamo con il maltempo perché ci attesa per l'ondata di maltempo che arriverà nelle prossime ore con la preoccupazione per il fenomeno dell'acqua alta che potrebbe interessare anche le nostre coste già battute da un forte vento di scirocco e ci colleghiamo proprio subito in diretta con la nostra inviata Monica Nardini che si trova a Grado, una città in preallerta proprio per l'acqua alta. Monica, buongiorno, subito a te la linea. Buongiorno Angela, ci troviamo sul lungomare Nazario Sauro, al momento non sta ancora piovendo, c'è vento, qua si aspetta il picco dell'acqua, della marea, è previsto tra le 11 e le 12, dicevrebbe essere la mare alta intorno alle 11 e 30 come picco, gli abitanti si stanno già preparando a eventuali allagamenti, per il momento comunque tante persone stanno passeggiando lungo le vie, anche lungo il lungomare, scusate, il gioco di parole, vediamo anche chi sta comunque facendo dello sport, approfittando comunque del fresco, anche del vento, delle onde che ci sono, vi terremo al corrente sugli sviluppi, al momento dunque la situazione non appare particolarmente problematica, c'è grande attenzione per gli sviluppi, vedete già le immagini del nostro Francesco Tecchio che documentano comunque il livello dell'acqua alto, vediamo se ci saranno oppure no gli allagamenti temuti. Noi vi ricordiamo che il sindaco nelle scorse ore ha anche emesso un'ordinanza, viste le probabili condizioni di acqua alta, infatti è stata sospesa la sosta a pagamento su tutta l'isola della Schiusa nelle giornate di oggi e domani e poi da questa mattina fino alle 7.30 di lunedì verranno aperti i varchi per le zone ZTL pedonali e è stata disposta inoltre la sospensione per il periodo interessato anche del rilievo dei transiti in zona pedonale, questo proprio in vista di questa situazione di maltempo. Prima di salutarvi Angela vi rilanciamo anche le parole di un gradese, un gradese doc Alessandro Marchesan intervistato in Riva San Vito, abbiamo visto i preparativi che anche questo cittadino ha messo in atto per proteggersi da eventuali allagamenti, sentiamo allora le sue parole e poi la linea a voi. Alessandro Marchesan, lei è gradese doc, siamo qua in Riva San Vito, le sei già preparato per quello che è previsto nelle prossime ore? Purtroppo, purtroppo sì, questo è un evento che compare puntualmente ormai da anni in questo periodo, un po' più tardi, solitamente verso novembre, ci siamo preparati con la classica tavola, come ne dicevo prima bellissima la zona, solo che è un disagio enorme quando l'acqua esce. Con voi avete vissuto anche l'inondazione che c'è stata a novembre, particolarmente pesante, vi ha creato anche voi qui non pochi danni? Certo, 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 ringraziamo comunque in ogni caso la Regione Comune che ci hanno dato la possibilità di poter fare richiesta per essere rimborsati i danni subiti, comunque abbiamo avuto grossi danni perché come ben vede siamo a livello del porto per cui l'acqua entra immediatamente nella nostra casa. Anche il resto della popolazione, i suoi vicini, come state vivendo queste ore di attesa, diciamo così? Beh, ma come al solito, con la speranza che le previsioni siano sbagliate e che il picco ci permetta di non avere i problemi che abbiamo avuto l'anno scorso. Ho sentito che a Venezia il picco dovrebbe essere intorno ai 138-140 su medio mare, ovviamente conseguentemente, che è la mia esperienza, penso che qui a Grado non avremo l'acqua che esce dal porto. Grazie allora Monica Nardini per queste testimonianze da Grado, vedremo appunto quello che accadrà nelle prossime ore. Intanto a Venezia si sono già alzate questa mattina le barriere del Mose a protezione della città, a protezione dell'alta marea. Una prima prova, una prima volta per il Mose dopo le prove generali delle scorse settimane. Su Venezia ha iniziato a piovere, c'è un forte vento di scirocco e come abbiamo sentito anche dalla persona che ha intervistato Monica Nardini a Grado, anche a Venezia è attesa una punta di marea di circa 140 centimetri sul medio mare, comunque al di sotto della quota più elevata di sempre che si era registrata a novembre dello scorso anno quando furono toccati i 187 centimetri. per Venezia è comunque una giornata importante per una prima volta appunto anche per il Mose, per questa infrastruttura che dovrebbe proteggere la città dal fenomeno dell'acqua alta. Intanto lo scirocco fa i primi danni a Caorle, una mareggiata aeroso, tre metri di spiaggia, il perimetro portuale è stato rafforzato con dei sacchi di sabbia, come ci racconta nel prossimo servizio Rosario Padovano. Mare grosso a Caorle e nel Veneto orientale, in attesa che le paretie del Mose si sollevino per preservare Venezia da una marea eccezionale di 135 centimetri, il cui culmine appunto è previsto a metà mattina. Dobbiamo registrare l'erosione di almeno due metri e mezzo di spiaggia a Ponente della località Caorlotta. Il mare ha raggiunto la terza fila di ombrellone in quegli stabilimenti banni che sono ancora aperti per il bel tempo di ottobre, bel tempo si spera naturalmente. All'altezza del porto Peschereccio l'acqua non ha invaso per fortuna le banchine, però il comune di Caorle ha posizionato dei sacchi da diversi quintali proprio per proteggere la muratura del porto Peschereccio, più volte sollecitata nel corso degli eventi alluvionali di novembre. Si rischiano appunto rotture e allagamento del centro. Più volte l'amministrazione comunale di Caorle ha sollecitato il demanio affinché ponga la parola fine su una questione molto sentita ai corlotti rafforzando il perimetro del porto. Intanto in Friuli Venezia Giulia la protezione civile avvisa che sono stati chiusi anche dei guadi, i guadi di Murlis, anche i guadi di Meduna. Ecco qua, troviamo l'avviso sul sito della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Chiusi i guadi sul Meduna di Rauscedo e Murlis. Chi attraversa i guadi in allerta mette in pericolo la vita di se stesso e anche gli altri. Rispettate i divieti, avvisa la protezione civile della nostra regione, mobilitata in queste ore per un'allerta di livello arancio, lo ricordiamo, su tutto il Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece per quanto riguarda la provincia di Trieste. E passiamo adesso alla pagina dedicata agli aggiornamenti sull'epidemia di coronavirus. Vediamo subito i dati del Friuli Venezia Giulia, sono quelli diffusi nel tardo pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale. Nella giornata di ieri ci sono stati 66 nuovi positivi che portano il totale delle persone attualmente positive a 812, 34 in più in una sola giornata. Al momento ci sono due persone in terapia intensiva, 18 quelle ricoverate negli altri reparti degli ospedali, 773 le persone in isolamento. Elevato il numero dei tamponi 4.683, 317 in più rispetto alla giornata precedente. E nelle ultime ore si registrano anche due vittime, oltre all'operaio bengalese residente a Staranzano, deceduto nei giorni scorsi, l'ultima vittima che si è registrata ieri è un'anziana signora di 96 anni, ospite della casa per anziani, la casa serena di Pordenone dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio di coronavirus. La donna è stata portata in ospedale dove è deceduta anche a causa di un quadro clinico particolarmente complesso per una serie di altre patologie già in atto da tempo. Per quanto riguarda il caso particolare del focolaio di casa serena, nella struttura pordenonese sono risultate positive al coronavirus 16 persone, 13 sono state trasferite presso la RSA di Sacile. Tra gli operatori 8 risultano positivi ma sono asintomatici. Ieri sono stati effettuati nuovi tamponi a tutti e si è in attesa dei risultati. E vediamo adesso anche i dati italiani. Restano alti per il secondo giorno consecutivo i nuovi contagi. 2.499 quelli registrati nelle ultime 24 ore. È ancora record di tamponi. Sono stati effettuati 120.301 tamponi, circa 2.000 in più rispetto al giorno precedente. È stabile l'incremento delle vittime, 23 nella giornata di ieri, che portano il totale delle persone decedute a 35.900. Vediamo adesso anche i numeri delle persone attualmente positive. 53.997, un incremento di 1.350 in una sola giornata. I dati del Ministero della Salute confermano anche la crescita dei pazienti ospedalizzati. In terapia intensiva ci sono 294 persone, 3 in più. 3.142 quelle ricoverate in ospedale. 77 in più rispetto alla giornata di giovedì. E continuano quindi ad aumentare i casi di covid nel nostro paese con l'RT che supera anche se di poco l'unità. Si registrano focolai e casi sporadici un po' in tutte le regioni italiane. Questo dimostra una trasmissione diffusa del virus, anche se non si registra un sovraccarico degli ospedali. I ricoveri in ospedale in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare. Lo ha sottolineato il professore Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, che ieri ha commentato i risultati del report settimanale sull'epidemia di covid-19. Sentiamo. Anche se non si registra un sovraccarico delle strutture ospedaliere, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare. Si raccomanda quindi di continuare a tenere dei comportamenti prudenti, quali il distanziamento fisico, l'uso di mascherine, il lavaggio delle mani e soprattutto evitare assembramenti di qualsiasi tipo. Il Premier Conte, intervenendo a Bari all'inaugurazione della Fiera del Levante, ha sottolineato che in questo momento l'Italia, per i grandi sacrifici fatti, è in una condizione migliore rispetto agli altri paesi. Ma, ha detto Conte, dobbiamo tenere alta l'attenzione. Basta una distrazione perché la curva epidemiologica sfuga al controllo. Sentiamo. Come sapete sono appena rientrato. Qualche ora fa ero a Bruxelles, dove si è svolta un'importante sessione del Consiglio europeo straordinario. È stato un momento anche per riflettere sulle varie crisi geopolitiche e anche in particolare questa mattina abbiamo riflettuto a lungo sulle rispettive esperienze nazionali e su quello che è l'andamento delle rispettive curve epidemiologiche. Abbiamo condiviso le preoccupazioni. Ci sono alcuni paesi che sono in maggiore difficoltà. in questo momento l'Italia, per i grandi sacrifici fatti, è in una condizione migliore rispetto ad altri paesi. Ma dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia di attenzione, massima concentrazione, perché basta una distrazione protratta per un breve arco temporale perché la curva epidemiologica sfuga di nuovo al controllo. E sarebbe terribile, non ce lo possiamo permettere, anche in virtù dei grandi sacrifici fatti, anche in virtù di tutte quelle persone che hanno sofferto e stanno soffrendo e anche delle persone care che sono decedute. Andiamo a vedere adesso anche le immagini che ci arrivano dagli Stati Uniti, dove come lo sappiamo la notizia del giorno è la positività al Covid-19 per il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e per la moglie Melania. Vediamo proprio in queste immagini l'aereo che ha portato, anzi l'elicottero che ha portato il Presidente in un ospedale militare. Respira senza bisogno dell'ossigeno e viene curato con il Remdesivir, un farmaco antivirale che è stato usato con successo contro il virus Ebola. Questo il comunicato ufficiale messo dal medico personale del Presidente americano. Sean Conley sta andando bene, credo, grazie a voi tutti, ha commentato il Presidente Trump in un tweet. Grazie con affetto. Queste le parole del Presidente americano che appunto ha lasciato la Casa Bianca in elicottero camminando da solo senza alcuna assistenza e indossando la mascherina. Ha salutato i reporter ma senza rispondere ad alcuna domanda. La feste di Melania rimane in quarantena, ha tosse e mal di testa. E adesso ritorniamo in Friuli e Venezia Giulia perché l'IRES ha diffuso oggi i dati di un report, di una rielaborazione dei dati dell'ISTAT sui decessi in Friuli, Venezia Giulia tra gennaio e maggio 2020. I numeri emersi da questa indagine del ricercatore Alessandro Russo ci dicono che in regione sono stati registrati in questo periodo 6.767 decessi, 485 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il più 7,7%. Se si considerano solo i mesi di marzo e aprile l'incremento a livello regionale è stato pari al 25,2%. Se si confrontano i dati del 2020 con la media dei 5 anni precedenti l'aumento risulta più attenuato, pari al 3,5%. Il dato di maggio, meno 150 decessi, segna un meno 12,5% e secondo il più recente rapporto predisposto da ISTAT e Istituto Superiore Sanità a questo dato vengono date due spiegazioni. Da una parte l'impatto del Covid-19 ha probabilmente causato nelle persone con condizioni di salute già molto compromesse l'anticipazione delle morti che sarebbero comunque avvenute nel breve periodo. Inoltre può essere ipotizzato che in alcuni casi il Covid possa essere solo una concausa del decesso, non la causa principale che pertanto non abbia un impatto diretto sulla mortalità complessiva. Analizzando i dati delle province del Friuli Venezia Giulia si rileva che sempre nel periodo gennaio-maggio 2015 il maggior numero di morti in regione si è registrato nella provincia di Trieste con un più 48,5%, pari a 246 decessi. 136 invece i decessi in provincia di Pordenone con un aumento del 26,8%, scusate 136 è la variazione dei decessi. In provincia di Gorizia ci sono stati 330 morti e 57 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nei mesi di marzo e aprile con un più 20,9%. In provincia di Udine 1214 decessi, 153 in più pari a un più 14,4%. La media regionale come detto è pari a un più 25,2%. Adesso ritorniamo a parlare di maltempo perché ha raggiunto la nostra collega Monica Nardini in diretta da grado il sindaco Dario Raunia. Buongiorno Monica, allora di nuovo a voi la linea. Eccoci di nuovo, sì Angela, sono con il sindaco Dario Raunia, siamo alle spalle del municipio, dunque che situazione si sta prevedendo? Vediamo il tempo che sta ovviamente peggiorando. Noi siamo fortemente preoccupati perché è previsto un picco di acqua alta anche a 160 cm sul livello del medio mare alle 11,30. Molto dipenderà dalle condizioni climatiche, dai venti, dall'intensità dei venti che stanno arrivando da sud. Ci sarà probabilmente il fenomeno dell'acqua alta, si tratta di capire fino a che livello. Si temono i livelli purtroppo raggiunti nel novembre del 2019? Nella peggiore delle ipotesi sì, anche se per ora il vento mi sembra non rinforzare eccessivamente. Sicuramente avremo il fenomeno dell'acqua alta, ripeto, bisognerà vedere fino a che livello. Quali consigli dà dunque ai cittadini, vista la situazione? Ma innanzitutto di mettere le macchine in sicurezza. I gradesi sanno molto bene quali sono le zone più soggette ad allagamento, cosa che peraltro hanno già fatto. Noi abbiamo emanato dei provvedimenti viabilistici per aiutarli in tutto questo. La protezione civile è al lavoro già da questa mattina, abbiamo messo in sicurezza alcuni plessi. Adesso non ci resta che confidare in una condizione meteo che non sia veramente terribile come quella del novembre scorso. Certo, lo speriamo anche noi. Sindaco, abbiamo visto gente fare kitesurf, se non erro, in questi istanti. È un'attività autorizzata, immaginiamo, lasciamole la parola. Però il nostro Francesco Tecchio ha anche inquadrato alcuni dei bagnanti, se non sbaglio due persone almeno, fare il bagno sulla spiaggia. Cosa diciamo in merito a questi comportamenti? Ma per quanto riguarda il kitesurf, quello che per noi è avverso, per loro è favorevole. Loro hanno bisogno di vento, vanno a veleggiare su pineta, su fondali bassi e non ci sono problemi. Per quelli sprovveduti, incoscienti che invece hanno fatto il bagno, consiglio a tutti di non farlo perché è pericolosissimo. È una cosa che non si deve assolutamente fare. Sindaco, quindi l'estate, ahimè, si è conclusa, visto che qua le chiedo anche un veloce bilancio, anche rispetto all'altro grande tema, l'altra grande problematica che stiamo vivendo, il coronavirus. Come sta andando in queste settimane e come si è chiusa anche l'estate alla luce di questa emergenza? Ma l'estate, viste le prospettive iniziali, si è chiusa molto bene, devo dire. Abbiamo lavorato ogni oltre più rosea aspettativa rispetto, visti gli scenari iniziali. Attualmente abbiamo soli tre casi di positività, peraltro non ricoverati in ospedale, ma questo non deve assolutamente farci abbassare la guardia, attenzione, perché l'epidemia di ritorno è un'infelice realtà e occorrerà assolutamente utilizzare i presidi, mantenere il distanziamento, fare tutto ciò che abbiamo sviluppato e che sappiamo esattamente in cosa consiste. È andata sviluppandosi una coscienza collettiva, ormai il coronavirus non è una novità, sappiamo come comportarci e la tenuta del sistema sanitario dipenderà dai nostri comportamenti. Quindi tre casi di positività sicuramente è un qualcosa che mi conforta, ma attenzione massima, attenzione massima anche perché con l'apertura delle scuole aumenteranno le pressioni. Grazie Sindaco Ragno, intanto attenzione massima anche alle onde che stanno arrivando al nostro fianco, ha iniziato anche a piovere, Angela in questo momento dunque salutiamo il Sindaco che tra l'altro avrà una mattinata particolarmente impegnata anche a causa del maltempo, grazie davvero di averci raggiunto. Mi permette di dire un'ultimissima cosa, relativamente allo stato di calamità, attenzione perché questi fenomeni in passato erano veramente eccezionali, oggi invece si stanno ripetendo con una ciclicità terribile. Allora secondo me occorrerà veramente interrogarci su come poter ristabilire delle difese a mare che possano mettere definitivamente in sicurezza non soltanto la nostra isola ma un intero territorio che è quello dell'Alto Adriatico. Non c'è più tempo da perdere. Grazie. Grazie Sindaco Angela, a voi la linea. Grazie Monica Nardini per questo collegamento da grado e a proposito di maltempo la situazione è particolarmente grave in altre regioni del nostro paese, anche in Europa, in Francia ci sono diverse vittime. Qui siamo sulla home page del sito dell'Ansa e vediamo che c'è un disperso nel Vercellese. Questa è l'ultima ora, quindi tante piogge e vento forte un po' in tutta Italia, in tutto il nord Italia. Resta critica la situazione in Piemonte e c'è un uomo disperso tra Italia e Francia nella provincia di Cuneo. Gravi danni causati a Limone Piemonte, sempre in provincia di Cuneo, a causa dell'esondazione di un torrente, c'è un altro disperso anche in Piemonte, quindi due persone disperse. Purtroppo c'è anche un vigile del fuoco che ha perso la vita in Valle d'Aosta, è rimasto schiacciato da un tronco d'albero che stava rimuovendo, che stava tagliando, è stato schiacciato quindi dal crollo di un albero causato dalla pioggia. Questo è successo in Valle d'Aosta, una situazione d'allerta dunque che riguarda tutto il paese. Ancora cronaca adesso, torniamo in Friuli Venezia Giulia con un daspo urbano per due triestini, l'operazione della polizia che ha denunciato due giovani triestini classe 2001, già noti alle forze dell'ordine. Verso le 4 di questa mattina sono giunte alla sala operativa della Questura diverse segnalazioni di persone che prendevano a calci alcuni ciclomotori parcheggiati in via Torino all'angolo di Piazza Venezia. Sul posto si sono recati tre equipaggi della volante che hanno fermato e identificato uno dei due. Mentre gli operatori erano intenti a ricostruire il fatto è intervenuto un amico che ha preso le difese del giovane e entrambi sono stati accompagnati in Questura per una denuncia. E adesso lo sport perché oggi è giornata di campionato per l'Udinese che questa sera contro la Roma cerca i primi punti in questo campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Verona e Spezia. L'arma in più potrebbe essere Pereira che ha risolto i problemi burocratici ed è ora a disposizione di Gotti al pari anche dell'altro recuperato Arslan. Allora sentiamo Alessandro Surza. Può essere il giorno della svolta per un Udinese che cerca i primi punti del suo campionato questa sera contro la Roma alla Dacia Arena. Primi punti in campionato dopo un inizio difficile causato dalle due sconfitte consecutive contro Verona e soprattutto Spezia. Primi punti in campionato che scaccerebbero quindi qualsiasi pensiero negativo se lo augura Gotti, se lo augura la squadra, se lo augura tutto l'ambiente perché come ha detto il tecnico veneto non bisogna vedere tutto nero. E allora per colorare questa stagione Gotti potrà contare anche su Roberto Pereira il Tucumano. Ultimo acquisto friulano ha risolto i problemi burocratici che ne avevano bloccato l'utilizzo contro lo Spezia mercoledì sera e stasera sarà a disposizione del mister bianconero che potrebbe anche decidere di lanciarlo dal primo minuto. Non sono previsti per ora grandi stravolgimenti tattici anche se qualcosina potrebbe cambiare già contro i giallorossi qualora l'argentino venisse utilizzato davanti dietro a lasagna in un modulo che passerebbe quindi dal 3-5-2 ad un 3-5-1-1 di guidoliniana memoria. A proposito di lasagna il capitano può festeggiare la convocazione nazionale ma deve stare attento perché Nestorovski scalpita. Per quanto riguarda i recuperi a centrocampo si dovrebbe rivedere il turco tedesco Arslan dopo l'affaticamento che l'aveva tenuto fuori nell'ultimo match. Le Paul tornerebbe così nel suo classico ruolo di mezzala destra sulle fasce da una parte Teravest e dall'altra balottaggio Zegelar-Aweyan in difesa ancora Out Bonifazi e anche Noiting che si rivedrà presumibilmente dopo la sosta. L'Udinese cerca i primi punti stasera contro la Roma. Ed è tutto per il momento, noi ci fermiamo qui, vi lascio al meteo ma ci rivediamo più tardi come sempre alle 12. Amici di Udinese TV un saluto e ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Condizioni di spiccata e instabilità nella giornata di sabato sul Friuli Venezia Giulia con cieli molto nuvolosi e rovesci e temporali diffusi localmente anche intensi specie nella seconda parte del giorno migliora poi verso tarda serata notte. In dettaglio tra Pordenone e Udine come vedete avremo condizioni di spiccata instabilità con temporali localmente intensi specie sulla Carnia. Clima fresco al mattino, temperature massime non al di sopra dei 21 gradi. In dettaglio diamo un sguardo alla situazione prevista anche tra Trieste e Gorizia. Come vedete la situazione sarà praticamente analoga. Sono attese anche qui condizioni di instabilità. Si segnala la presenza di forti venti dai quadranti meridionali in particolar modo sulle coste con mari anche fino ad agitati. Temperature massime in aumento nelle ore centrali del giorno per la presenza di questi forti venti in brusco calo poi dalla sera. Con questo è tutto amici di Udinese TV rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trevi Meteo. Grazie a tutti.